Cedo il microfono a un segretario di partito ma prima ancora che è un segretario di partito a un'amica ci siamo giocati una bellissima partita a Roma che qualcuno ha voluto perdere ma è stata una sconfitta solo momentanea e temporanea perché ci è servita da lezione penso che potremo andare a vincere a Roma il microfono a Giorgio Meloni Miserabili siamo una banda di miserabili tanti appassionati ma miserabili perché miserabili è esattamente la parola utilizzata da Hillary Clinton per definire quelli che non votavano per lei perché per essere dei colti e illuminati gli americani avrebbero dovuto votare per una che prende i finanziamenti dal fondamentalismo islamico che ci voleva riportare in piena guerra fredda e che vorrebbe l'aborto al nono mese e siccome invece gli americani l'hanno schifata giustamente allora sono dei miserabili mettiamola così siamo un po' siamo un po' miserabili anche noi perché quello che è accaduto negli Stati Uniti è un po' quello che sta accadendo in tutto il mondo miserabile significa che evoca povertà e vedete la sinistra radical chic la pensa esattamente così la povertà gli fa ribrezzo gli fa ribrezzo il popolo con tutti quei disoccupati con i piccoli e medi imprenditori i commercianti, gli allevatori, i pescatori con quella gente che mette su famiglia e che addirittura decide di fare dei figli senza ricorrere all'utero in affitto che volgarità questo popolo che schifo loro sono così e noi fieramente siamo esattamente dall'altra parte noi siamo i populisti fieramente populisti fieramente dalla parte del popolo contro lo strapotere degli speculatori dell'usurai trasformati o mascherati sotto la finanza internazionale delle lobby e degli amici degli amici dei potenti sì, stiamo dall'altra parte c'è uno scontro aperto in tutta Europa e in tutto il mondo da una parte i diritti dei molti dall'altra gli interessi dei pochi e noi vogliamo stare con i diritti dei molti vogliamo dire che la globalizzazione la devi governare perché se la globalizzazione non la governi allora porta solo povertà povertà, miseria, disoccupazione se continuiamo a importare merci a basso costo da nazioni nelle quali non vengono rispettati i diritti dei lavoratori noi otteniamo semplicemente di mettere fuori mercato le merci prodotte da noi e di creare disoccupazione e alla fine e alla fine avremo solo due scelte o pagare i nostri ravolatori come vengono pagati quelli cinesi o messicani oppure ragionare in occidente per esempio dei dazi doganali sull'importazione delle merci che arrivano da nazioni che non rispettano i diritti dei lavoratori ma se una cosa del genere voi la andate a dire a un radical chic vi guarderà schifato perché la globalizzazione incontrollata conviene alle multinazionali conviene al grande capitale conviene alle grandi lobby a quelli che in America finanziano la Clinton e in Italia vanno a braccetto con Matteo Renzi come Sergio Marchionne che ogni giorno ci dice che Renzi sta facendo bene poi però chiude gli stabilimenti della Fiat nel sud Italia porta la sede fiscale della Fiat in Gran Bretagna e lui è residente in Svizzera perché quelli che le tasse le pagano in Italia e non in Svizzera quelli che non sono scappati col malloppo dopo aver preso milioni di euro di sovvenzioni dallo Stato italiano non ce la fanno a dire che Renzi sta facendo bene non ce la fanno e la stessa cosa vale sull'immigrazione hai voglia a dire che noi siamo quelli xenofobi mentre loro sono quelli solidali anche qui non vi fate fregare la solidarietà nella politica di accoglienza che fa questo governo non c'entra niente l'immigrazione incontrollata conviene al grande capitale per rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori italiani è questo il gioco aperto lo vuoi fare questo lavoro 8 ore al giorno a 400 euro al mese? no non lo voglio fare e chi se ne frega sono entrati 500.000 immigrati clandestini loro accetteranno quelle condizioni tu accontentati della disoccupazione accontentati di essere un profugo in patria e se ti lamenti diremo che sei xenofobo mentre il grande industriale che sfrutta l'immigrato clandestino che arriva quello è un filantropo è una brava persona è uno che vuole un mondo nuovo senza frontiere un mondo migliore basta con le menzogne che abbiamo sentito dire in tema di immigrazione la menzogna che sono profughi perché non sono profughi i profughi nelle migliaia di persone che arrivano da noi non raggiungono la percentuale del 10% sono immigrati clandestini basta con la menzogna dell'accoglienza per la solidarietà li accolgono per far arricchire e delle volte rubare le cooperative che poi finanziano i partiti di governo basta con la menzogna che sono soldi dell'Europa non sono soldi dell'Europa a parte che l'Europa non ha soldi suoi l'Europa ha sempre soldi nostri anche se fossero fondi europei sarebbero i nostri ma non sono soldi europei sono soldi italiani iscritti nel bilancio dello Stato italiano 2 miliardi 900 milioni di euro c'è scritto quest'anno nel DEF di Renzi nel documento di bilancio di Renzi non sono soldi europei sono soldi italiani e noi non vogliamo più spendere i nostri soldi così non vogliamo più un'Italia nella quale mentre una famiglia italiana può vivere per tre anni dentro una macchina quando arriva un immigrato clandestino gli piacchiamo vitto e alloggio non lo vogliamo fare più e non vogliamo più dover discutere di dove mettiamo questi clandestini quando arrivano perché non è questo il dibattito certo sarebbe un dibattito interessante nessuno riesce mai a rispondermi alla domanda scusate qual è il limite perché abbiamo cominciato con le caserme poi abbiamo preso gli alberghi poi abbiamo chiesto alle famiglie di accoglierli poi abbiamo cominciato a requisire gli ostelli si arriverà o non si arriverà a requisire le seconde case sfitte degli italiani per esempio se lo Stato può utilizzare la proprietà privata quando si tratta di un ostello perché non può farlo quando si tratta di una casa ogni volta mi guardano come se fossi folle ne riparleremo fra qualche anno io non voglio più parlare di questo non voglio parlare di dove accogliamo i profughi voglio parlare di come impediamo ai barconi di partire perché un governo serio farebbe questo noi non possiamo utilizzare le navi della nostra marina militare per fare il servizio di traghetto, di navetta alle dipendenze degli scafisti libici è indegno per i nostri uomini in divisa lo dico oggi nell'anniversario della strage di Nassiria che ha visto uomini morire lontano da casa per difendere questa nazione e questa patria perché la riflessione va fatta che senso ha partecipare alle missioni internazionali per difendere l'Italia che senso ha pagare un tributo di sangue a centinaia di chilometri da qui quando in casa nostra non siamo in grado di difendere la nostra terra quando consentiamo a migliaia di persone che non sappiamo chi sono di entrare in Italia senza alcun tipo di controllo quando tutti sanno benissimo che la tratta dei migranti è gestita dalla criminalità quando non dal fondamentalismo islamico svegliati Alfano Alfano ha un nuovo soprannome Caronte è l'uomo che traghetterà un miliardo di africani verso l'Italia Caronte dei giorni nostri ho detto Caronte non fraintendere il governo dei flussi migratori è un tema serio non è un tema che si può affrontare come lo ha affrontato il governo Renzi queste sono le grandi criticità aperte nel nostro tempo queste sono le grandi questioni sulle quali tentiamo di confrontarci con interlocutori che purtroppo nella maggior parte dei casi sono completamente sordi però gli italiani cominciano a capire le menzogne anche qui tanta voglia di libertà tanta voglia di chiudere con il pensiero unico dominante con il politicamente corretto di recuperare la sovranità di questa nazione e dall'altra parte però chi ci governa si sta già organizzando hanno capito che il popolo forse non le ascolta più le loro sciocchezze e allora adesso la nuova frontiera è dire che questa democrazia alla fine ma è un po' è pericolosa ne avete lette le analisi dopo il voto americano Eugenio Scalfari qualche giorno qualche settimana fa su Repubblica ha scritto apertamente che l'unica democrazia possibile è l'oligarchia il governo dei pochi illuminati perché il popolo il popolo capisce niente ma che vogliamo far votare il popolo i giornalisti della sinistra giornalisti di regime che ci vengono a dire beh ma questo soffraggio universale è una roba un po' pericolosa forse bisognerà trovare altre forme e ci hanno fatto una riforma sopra vedete la Boschi dice che noi non sappiamo che cosa dire nel merito della riforma e io continuo a ripeterle che se lei scende dai suoi monologhi e si viene a confrontare con qualcuno glielo spieghiamo perché fa schifo la sua riforma lo diciamo a lei e lo diciamo anche a Matteo Renzi avete visto Matteo Renzi non parla con nessuno che abbia meno di 95 anni pare che abbia scritto anche una mail alla mummia di Tutankamo per vedere se viene a fare con lui un dibattito sul referendum parla con qualcuno di noi Matteo c'è gente della tua generazione che ti può spiegare perché ci sono tanti giovani che votano no perché ho finito il tempo vedo Matteo e quindi vado alla conclusione perché chiudo la riforma dice questo in buona sostanza il senato rimane ma i senatori non ve li scegliete più li nominano i partiti politici soprattutto quelli di maggioranza esattamente come è già accaduto per le province che pure di fatto sono rimaste per gran parte ma voi non scegliete più niente che riguardi le province il governo continuerà a essere scelto nei palazzi il presidente della repubblica continuerà a essere nominato dal palazzo il presidente della repubblica a sua volta nominerà 5 senatori su 100 vuol dire che conta più lui da solo di 2 milioni e mezzo di voti più o meno i parlamentari volta cabana quei simpatici quel fenomeno simpatico tutto italiano per cui uno si fa eleggere con una coalizione e poi si vende e passa con quella diametralmente opposta rimangono al loro posto tutto questo per fare cosa? perché loro possano contare sempre di più sulla pelle nostra senza tenere minimamente in considerazione quello che pensiamo noi invece noi pensiamo che la costituzione italiana debba aumentare la sovranità per gli italiani non diminuirla vogliamo che gli italiani possano dire la loro sulle norme europee vogliamo che possano scegliersi il capo dell'esecutivo vogliamo che possano decidere su ogni singolo parlamentare e vogliamo che un parlamentare che tradisce il mandato degli elettori vada a casa basta basta gli italiani lo sanno questo Renzi si può inventare quello che vuole ma il 4 dicembre verrà seppellito da una valanga di no stanno facendo di tutto la Rai sembra la Corea del Nord di Kim Jong-un parla solo Renzi ci manca che venga a dire l'oroscopo vediamo solo lui c'è una scheda elettorale che a Renzi gliela devono aver così ispirata i suoi amici di Banca Etruria quando facevano firmare ai pensionati dei contratti incomprensibili per fregargli i risparmi di una vita scheda elettorale scritta per fregare gli elettori basta allora io dico e chiudo veramente il 4 dicembre noi seppelliamo questo governo e la sua ridicola riforma sotto una valanga di no e il giorno dopo ricostruiamo e anche qui voglio essere chiara se Sergio Mattarella il giorno dopo che Renzi viene sconfitto dovesse rivelarsi un Giorgio Napolitano qualunque e impedirci di andare a votare noi vi chiameremo alla mobilitazione perché l'Italia non si può permettere il quarto governo di fila non scelto dagli elettori e chi nel centro-destra dovesse pensare di sostenere un qualunque governo che non è frutto delle scelte dei cittadini beh sappia che con noi non potrà più essere alleato basta ambiguità noi vogliamo ricostruire c'è lo spazio per una proposta politica nuova per una proposta politica fondata sulla sovranità sull'interesse nazionale sui diritti e i bisogni dei nostri cittadini prima gli italiani si può fare e lo vogliamo fare e abbiamo tutte le carte in tavola e la classe dirigente per offrire all'Italia una proposta di governo che non sia il servilismo di Renzi e non sia l'inconcludenza dei 5 stelle lo faremo a partire da oggi a partire dal 5 dicembre ci vediamo ancora il 18 dicembre il 18 novembre chiedo scusa a Genova con Matteo con Giovanni con gli altri ringrazio tutti ringrazio voi e tante altre manifestazioni per costruire qualcosa di nuovo è entusiasmante ridare all'Italia dignità orgoglio sovranità grazie